Allora, due persone scegiamo e che commenta solo quello che il gatto è di fatto. Mi offro io, mi offro! Cosa? Ma tu cosa offre? Cosa offre? Sette, siete tranquilli, è un po' che la ditte! Cosa metti a te? Cosa offre? Questa è? 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 Un impegno concreto. Quali sono i miei? Quante cagliari? Questa è? Questa è? Allora siamo a posto! Questa è grande! Bravo! Bravo! Dottor Gui è a posto con la testa! Altra è tutta la sua personalità! Alla dolce! Questa è? 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 Questa è?